Io credo in me, nel cuore mi credo, credo, io credo in me, nel cuore mi credo, credo, il sogno mi realizzerò Tu ci puoi scommettere un ninja anche io diventerò che di amici non ne ho Saluto i guai degli anni miei che ormai sono dodici diventerai quel che già sei e fra ombre e luci Io credo in me, nel cuore mio che non ha radici io credo in me e dico addio ai miei giorni grigi Con il braccio che ha il coraggio di lasciarsi il sole dietro sé Io credo in me, nel cuore mio e al dolore dico addio Io credo in me, nel cuore mio E bello a tutti ragazzi e ragazzi, è bello di questo video, io sono sempre il vostro amico il grande Mark E oggi siamo di nuovo, sono Naruto, Shippuden Ultimate Ninja, Blazing, come ogni martedì Come vedete ho fatto un po' di allenamento, sono già a ninja rank 90 Vi spiego subito, prima avevo 232 ninja per 232 Che ho speso nella, adesso velocemente andiamo nelle salmon Nella salmon, nella salmon, velocemente Ho speso 40 su questa batch Here are the ultimate blazing batch Dove ho speso 40 su questa e adesso che non c'è Però ho speso, ho anche 40 su Ho fatto anche qualche singola delle varie batch che ho fatto E ho speso anche 40 sulla batch di Sakura Quindi Aru e Rai di Kakashi Questi sono tu, vabbò oltre ai 4 stelle e ai 3 stelle che ho trovato Ma anche non ve li faccio vedere Nelle varie batch ho trovato Perché quel video è andato perso Perché il PowerDirector, l'applicazione che uso per montare i video Non me l'ha retto e me l'ha cancellato Non l'ho fatto manco io apposta senza volerlo E ho cancellato, avevo già montato Quindi era tutto a posto, tutto fatto Avevo già cancellato I due La cosa per il montaggio Quindi non potevo manco mandare la parte senza sigla O solo con la sigla E quindi No Questi sono i personaggi che ho trovato Ho trovato questa Temari 5 stelle che ce l'avevo già 4 stelle Infatti io ho fatto l'ability Niente di che E ho trovato anche Questo ottimo gara Che io lo chiamo Beast Form Perché Appunto come si vede C'è La trasformazione Nella prima coda Di Cerco Teri Per awakenare la 6 stelle Lo vedrete Perché me lo farò Ci vorrà un bel po' Un bel po' Un altro che è stato E' stato lui Ce l'ho avuto per due O in una bacia ho fatto la pull Mi sono venuti due Questi due Sasuke di queste Ucia E appunto come vedete Ci ho fatto pure l'ability Un ottimo PG Devo dire Un ottimo Ho avuto tre di questi gara Tre E appunto come vedete C'ha l'ability 2 Ability 2 Fortissimo Questo gara E' forte molto Questi due tobi Questo zezo nero Li ho avuti Per sfida Nell'emergency mission Ce l'ho fatta E li ho trovati Cioè sono riuscito A prendermeli Ho trovato sempre Anche questo Sasuke Ucia Fortissimo Fighissimo Questo E' fortissimo Come bravery E' molto forte Poi anche questo Zabuza L'ho trovato Sempre nell'emergency mission Nell'ultimate By blazing bush Ho trovato Questa di nata Ayuga Che devo dire Che è forte Molto forte Poi sempre Avevo trovato Nelle sfide Lui Giugo L'ho portato A 6 stelle E ho trovato Poi sono riuscito A portarmi Naruto Del mare Naruto Vacanziere A 6 stelle E Anche Deidara Sono riuscito Come vedete Sempre Nelle blazing bush Ho trovato Anche questo Che se non mi sbaglio È la quinta coda Utaka Che mi sono subito Portata a 6 stelle Perché è forte È molto forte Poi con le varie monete Che ti danno Nei vari pool Che fai Ti danno le monete Per il nuovo anno Ho preso Naruto Hurt 5 stelle L'ho walkenato Subito A 6 stelle Perché mi serviva Perché era un pg Ottimo Poi vabbò Tutti gli altri Sono stati 4 stelle Trashy Kamaru Kizami Trovate Cacchiate Ma oggi Come ho detto 66 Ninja Purs E per Coprire Diciamo Avendo perso Tutto Il coso Tutto il coso Faremo Una molti Di questa Della nuova Nella new years Questa qua Di con Madara Uchia Che io credevo Essendo uscita Questa Di Shirama Credevo Che fosse Secondo Kage Invece Madara Questa qua Invece Dove c'è Mighty Guy Che è il Basic Festival Dei 5 Che ci sono stati Nei vari giorni Nei vari 5 Vari personaggi Che si fattavano A pullare E potevi trovare Quello Il primo C'è stato Madara Non questo Ma un altro Madara Nel secondo Naruto 6 vie Nel secondo Scusatemi Sasuke 6 vie Scusatemi Nel terzo Naruto 6 vie Che volevo Pollarci Ma volevo Farlo in un video Non ci sono riuscito Nel quarto B2C 6 vie E nel 5 Questo qua Che è Mighty Guy Deep Chrism Yant Quindi una sorta Di 6 vie Comunque Faremo Questa Questa qua La new year Ultimate Blazing Bash Dove possiamo Trovare Madara Neji Gaara E Naruto Naruto E Gaara Sono quelli Che voglio Trovare Assolutamente E anche Madara Non è male Quindi faremo Una multi E tutte le varie Tutto il resto Quindi sono 26 In singole Partiamo 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 Prima multi Non ci ha dato Il keep it Subito Daccelo adesso Keep it Per favore Keep it Keep it Keep it together Naruto Vai Dai 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 Vediamo una bella Super rare Quattro E già si inizia Bene Quattro Tra la fine Attenzione 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 Cancuro No Non è Cancuro E Sasori Scusate Sasori 5 stelle Vabbò La bidi La bidi Sì I bichi Morino Sì Attenzione Ah Questo Naruto 5 stelle E' buono Non male Gai Che palle Ultima Neji Ho tutte Ho fatto una Blazing Bash Completa Ho trovato Inata E Neji Ottimo Come vedete Vi da Le monetine Io voglio fare Questa Singola Via Partiamo Ne abbiamo Quattro Una Sei Un Troppo Cinque Un bravo Contatore Vai Una Una Veri Rai Normale Chi è Sto Spadacino Della Strapippa Lo spadacino Lo spadacino Come vedete Monete Che Andorra Usare per un altro Personaggio Che mi da Che mi da Grazie Grazie Seconda Singola Che Sperando in qualcosa Dai, keep it, keep it, keep it E invece un'altra vera rare A me non stiamo trovando rare Che già lì è un po' Di nuovo prosto sakura Ability Va bene Quarta Sì, quarta e penultima Single summon Vai Keep it Together Naruto Sperando in una super rare Dai, 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 dai Sì Vai così, super rare Attenzione, troviamo Di nuovo reigi Va bene Di nuovo reigi Ho l'ability E vai Ultima single summon Sperando di trovare Keep it together subito Grande Keep it together Subito E questa Sperando di scrivere Un'altra SR Un'altra super rare Oh yeah Oh yeah Una singola Oh yeah Appunto Dai, questa è una super rare Sper Sì Sì Due super rare Attenzione Troviamo Successore del quarto Reikage Da Rui Va bene Ok Non Non fa schifo Non fa Schifo Non fa schifo Quindi ragazzi Per questo video è tutto Mi piace, commentate, lasciate un bel pollice Il suo, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto Noi ci vediamo domani con un video Picca amica A tutti Più, più, più